Su questo stabilimento che fa parte della tratta dove non c'è la balneabilità del mare manca il cartello, entrano in acqua per vedere se c'è e poi escono perché sanno che non si può fare il bagno, è il motivo? Sicuramente non so qual è il motivo, posso però dire una cosa, domenica sono venuto a prendere il sole in questo stabilimento che è frequento ormai da 26 anni e il cartello c'era, sicuramente non so per quale ragione non c'è ma comunque abbiamo predisposto un servizio che a giorni alterni, operai del comune e della manutenzione fanno il giro delle spiagge per riapporre laddove dovesse essere mancanti i cartelli, a volte si trovano buttati per terra, a volte non si trovano proprio ma proprio per questo abbiamo istituito questo servizio proprio sistematico che viene fatto anche con report fotografici proprio per avere documentazione di quello che facciamo costantemente tutti i giorni. In acqua ci sono dei bambini e anche degli adulti in questo momento? Sicuramente ci sarà il bagnino che dovrà dire loro di non fare il bagno, però dopo di che ognuno è libero di fare ciò che vuole, non è che lo si può prendere di peso, si assume la responsabilità, anche domenica c'erano delle persone a cui ho detto che c'è il divieto di bagnazione però hanno continuato tranquillamente a fare il bagno.